miglioramento la voce interiore attraverso roberta esse in un certo senso siete insaziabili del miglioramento e molto spesso questa ricerca diventa un'ossessione ed è sbagliato avere ossessioni noi ve lo diciamo da tempo non abbiate l'ossessione di migliorarvi di evolvere di essere migliori non perché non dobbiate di venire migliori ma perché semplicemente non sarà la fissazione a rendervi migliori non sarà il pensiero costante verso una meta a farvi raggiungere quella meta semplicemente perché quella meta non è reale non appartiene al mondo interiore ma appartiene al mondo esteriore grazie 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 grazie